9 record italiani e 1 addirittura europeo. Sono risultati più che di tutto rispetto quelli ottenuti al diciannovesimo trofeo città di Busto Lions Host che ha visto assegnare la Coppa Magistrelli in memoria di colui che le cuffie colorate hanno sempre considerato il loro papà e che il Covid ha portato via. Così nell'ambito dell'annata in cui Busto Arsizia è città europea dello sport grazie anche al contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia gli atleti di nuoto paralimpica hanno brillato alla piscina di Via Manara durante un evento che di anno in anno acquista sempre maggior importanza a livello nazionale. Un derby da stati d'animo contrapposti, quello tra Caronnese e Città di Varese. I biancorossi vincono 2-1 al comunale, conquistano la seconda vittoria consecutiva e condannano alla retrocessione la Caronnese che dopo 13 anni di Serie D torna mestamente in eccellenza. Le lacrime rosso-blu fanno da contraltare i sorrisi biancorossi per una vittoria fondamentale che permette alla squadra di Gianluca Porro di rientrare all'interno della forbice play-out. Non certo una partita semplice per i biancorossi che hanno saputo soffrire nel primo tempo e che hanno trovato poi l'1-2 vincente nella ripresa con le reti di Settimo e Rossini. Secondo me si è stati bravi comunque in una cosa fondamentalmente, a stare nella gara, perché poi le partite sono fatte di difficoltà, di momenti più o meno buoni e la capacità di una squadra di adattarsi e di trovare le soluzioni. Quindi rientriamo nel discorso dei fattori che possono essere sotto controllo. Sotto il nostro controllo devono rientrare tutte quelle soluzioni che allenandosi e provando a riconoscere tutto quello che capita si riescono a rimediare. Ora per il Città di Varese un'altra sfida cruciale domenica prossima al Franco Ossola dove arriverà la folgore carattese dell'ex tecnico Giuliano Melosi. Era la stagione 2015-2016 il Varese proprio col tecnico sarronese in panchina dominò il campionato di eccellenza per salire in serie D. Quella serie D che ora i ragazzi di Gianluca Porro vogliono tenersi stretti. Incredibile pareggio casalingo per la Propatria che impatta 1-1 con il Piacenza. Biancorossi in vantaggio al minuto 96 con Morra che di testa fa esplodere i più di 500 Piacentini al seguito regalando il sogno play-out ad un Piacenza sempre ultimo in classifica. La pareggia incredibilmente Chakir al minuto 99 che risolve una mischia e regala la salvezza matematica alla Propatria e si regala il primo gol in maglia bianco-blu. Ultima di campionato sabato alle 17.30 a Seregno contro il San Giuliano. San Giuliano ancora invischiato nella lotta play-out mentre per la Propatria una flebile speranza play-off che passa attraverso una serie di combinazioni. Vittoria della Juventus next-gen, vittoria della Propatria e sconfitta del Renate ad Arzignano. Intanto Mister Vargas ha annunciato la separazione dalla società bianco-blu al termine della stagione. Una splendida domenica di sole e di tutto esaurito in un centro di Varese gremito e variopinto, solidale, atletico e affiatato. La corsa di Ecoran e i suoi 1500 partecipanti invadono pacificamente un centro storico animato dalle iniziative portate in piazza dai Lions Club, con la musica e i giochi per bambini, gazebo e le visite mediche gratuite, con tante famiglie, molti abbracci e qualche volto noto della città, pronto a misurarsi sul campo. Grandissimo risultato! Cioè quale? 25 km ho fatto questa mattina sul progetto mezz'ora prima degli anni. Oggi è un'altra giornata di sport, di solidarietà, con una Varese all'insegna di tanti corridori e soprattutto di un'iniziativa importante dei Lions, il Lions Day, che rappresenta una realtà importante del nostro territorio a livello nazionale. Per la cronaca, la mezza maratona è stata vinta da Simone Camaugneri e da Carmen De Lucia, ma alla fine di questa domenica d'applausi il vero trionfo è dell'intera città. Grande vittoria per Saron, era l'obiettivo di inizio stagione, piuttosto ambizioso, perché? Perché ha cambiato molto il roster rispetto all'anno scorso, una squadra molto giovane con una decina di ragazzi addirittura cresciuti nel settore giovanile. Sì, direi che era l'obiettivo della società, della squadra, siamo molto contenti di averlo raggiunto senza passare dai play-off, anche se all'ultima giornata e non senza patimenti e difficoltà, però come hai detto tu, credo che l'aver raggiunto l'obiettivo con tanti giovani e con tanti giovani, soprattutto che provengono da Sottotitoli e Saronno, sia un ulteriore attestato dell'ottimo lavoro che ha fatto negli anni la società di Saronno. La squadra è stata al completo solamente per tre partite, cioè praticamente tu hai avuto il tuo roster al completo solo per tre partite, una di queste è stata l'ultima di campionato contro Cermenate, si è visto 56 punti nel primo tempo, poi una vittoria abbastanza ampia nell'arco dei 40 minuti. Però devo anche dire la verità che abbiamo un roster ampio e anche al di fuori dei 12 che poi vengono in panchina abbiamo veramente tanti giocatori, tanti ragazzi giovani che vengono a Sottotitoli e come hai detto tu giustamente siamo, a volte ho fatto fatica a dover lasciare il 10% della nostra forza associativa è composta da arbitri, basket o calcio, abbiamo anche l'ex presidente che è un nostro socio fondatore, Cesare Gussoni, ex presidente AIA e designatore arbitrale e quindi insomma era un modo per omaggiare una parte significativa degli sportivi che compongono il nostro club. Ospite d'onore della serata arbitro Ergo Sum del Panathlon Club La Malpensa è il neo vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, il Bustocco Alberto Zaroli. Una nomina di prestigio che viene dopo un percorso che per me è partito dalla sezione, è partito dalla sezione di Buster Sezio passando attraverso il comitato della giornata della Lombardia e adesso con questa carica di vicepresidente dell'AIA a livello nazionale come dice lei in un momento particolare perché arriviamo così da una situazione che ha coinvolto negativamente tutta la nostra associazione ma che riguardava una sola persona e non ha quindi minimamente toccato tutta quella che è la nostra struttura, l'integrità dei nostri arbitri. Un consiglio allora che si senti di dare ai giovani? Il provare a venire a fare agli arbitri. In questo momento c'è anche la possibilità di giocare e di arbitrare. Come si gioca in porto, si gioca all'attacco, qualche volta bisogna provare a giocare da arbitro. Si imparano a rispettare le regole oltre a conoscere le regole del gioco che per noi è quello più bello del mondo. Si sono chiamati i colpitori e vogliono fare una vera e propria rivoluzione culturale dando vita ad un nuovo movimento poetico sportivo, artistico e sociale. Prima palestra d'Italia ad aderire la Thunder Top Team, sede della storica pugilistica gallaratese che ha ospitato nei giorni scorsi Federica Guglielmini, scrittrice pugile, uno dei due artefici del manifesto dei colpitori. Io e gli altri firmatari, Dome Bulfore, come potete vedere appunto Renato Dedonato, Riccardo Mauri, Mario Renio Sturla, Mauro Cicalè e Michele Carrieri, siamo i firmatari e i fondatori di questo manifesto che ha il desiderio di stare all'angolo di questa generazione, di dare una risorsa educativa e di valori alle scuole, ai ragazzi che non riescono ad affrontare le sfide della vita. A quali valori si ispira? I valori sono quelli del rispetto dell'altro, quello che deve essere considerato lo sparring partner, che ci sia un litigio, che ci sia un alterco verbale, che ci sia un desiderio di combattere l'altro, deve essere sempre fatto con rispetto. Messaggio pugilistico come icona, come messaggio educativo e di valore. Rispetto, rispetto delle regole, rispetto del maestro che ti dà i consigli nei momenti più difficili e quindi è un'iniziativa che tutti noi portiamo avanti da sempre, per cui sono veramente contento di essere una delle prime palestre, anzi la prima palestra in Italia ad aderire a questo movimento. Presenti all'evento il sindaco Andrea Cassani, l'assessore alla cultura Claudia Mazzetti e dirigente scolastico dell'Istituto Falcone, Vito e l'Acqua. Tutti, tra i più esperti, ai più profani, pongono in risalto il valore aggiunto umano, del contesto, del collante tra le persone. Sì, diciamo che questa è una delle... mi prendo un minimo di merito perché la scelta di questi giocatori è stata fatta proprio in quell'ottica di cercare di creare un gruppo di persone vincenti, amici e che hanno veramente creato un gruppo fortissimo e tutti hanno giocato veramente uno per l'altro fino all'ultimo secondo e questo è stato forse l'arma vincente del nostro successo. Ultimo riferimento che voglio fare con te, sui giovani, giovanissimi, i bambini, secondo te l'Occhi ha le carte regola per essere un vivaio a tutti gli effetti? Ora sì, anche perché abbiamo visto quest'anno, vuoi sempre, anche per i meriti della squadra, si sono avvicinate tantissime famiglie con tantissimi bambini e già in pista ce ne sono parecchi di bambini. Erano partiti, se non sbaglio, con 30, sono più di 100 adesso. Sarebbe stato troppo bello, stagione finita per la Uiba che si arrende allo strapotere di Conegliano e cede 3-0 anche in gara 2. Una sfida troppo al di sopra delle farfalle contro un avversario destinato e candidato alla conquista del tricolore, Scandicci e Milano permettendo. A bocce fermi si comincia a parlare di futuro, il fantavoli di questi ultimi giorni ha avvicinato addirittura il nome del guru Giulio Vilasco alla panchina del patron Giuseppe Pirola. Di mezzo c'è un sentimento di speranza misto d'illusione perché è assai difficile al di là di ogni più oneroso sponsor di poter arrivare a un progetto tanto ambizioso quanto monetariamente ad oggi proibitivo. Sognare non guasta mai, intanto ci sarà da chiedere la volontà di Marco Musso che nel dopo Conegliano non è mai sembrata quella di cambiare aria. Quindi se sarà addio sarà una scelta societaria che deve però avere in mano un'idea nuova e concreta che possa aprire un ciclo possibilmente vincente. L'ultimo e l'unico scudetto del 2012 ha già superato i dieci anni di vita. L'ultimo e l'unico scudetto del 2012 ha già superato i dieci anni di vita. Un gran peccato perché 11 primavere fa una semidebuttante Conegliano toglieva proprio a busto la gioia del secondo scudetto mentre oggi Limoco vola la caccia del suo sesto titolo. Una vera e propria sliding doors, una porta chiusa per la WI, ma ormai da troppo tempo. Una squadra che si merita i playoff. Finisce in trionfo la partita della pallacanestro varese contro l'Eppi Casa Brindisi. In un lino il drini più rovente che mai i biancorossi si impongono. 93-86 guidati dalle giocate del trio Johnson, Brown e Waldetensa. Dopo un primo tempo non semplice nel quale Varese è però brava a resistere ai colpi dei pugliesi biancorossi si scatenano a cavallo tra il secondo e il terzo quarto quando costruiscono un parziale di 20-0 che indirizza il match e due punti verso la OJM. Ora per Varese arriva un'altra sfida decisiva. La trasferta con Venezia di domenica 23 aprire alle ore 19 con l'obiettivo che rimane sempre lo stesso, vincere per continuare a credere nella salvezza. Sono davvero fiero di questo gruppo, sono rimasti uniti, hanno lottato, i tifosi sono straordinari, anzi voglio ringraziarli per essere venuti così numerosi a sostenerci come sempre. Oggi si festeggia. Nelle parole di Coach Brasi c'è l'essenza della vittoria su Brindisi con un quarto da scrivere negli annali e un pubblico da far esplodere Masnago. È una grande rimonta, siamo una squadra che non molla mai, veramente dei compagni di squadra fantastici, pubblico incredibile, andiamo avanti così, noi facciamo il nostro lavoro e diamo il meglio in campo. Tappa Folgore Caratese per lanciarsi verso la salvezza. Si inizia a vincere anche quando non lo meriteresti al 100% significa che il vento sta cambiando, o meglio l'augurio è questo che corrisponde a verità, ma intanto il Città di Varese non ha mai perso nelle ultime tre gare, i sette punti in saccoccia hanno riportato i bianco-rossi in zona play-out. Ad oggi se dovesse finire il campionato il Varese si giocherebbe la permanenza di categoria sul campo della Real Celapina che dista sei punti, solo un pari per i Bergamaschi nelle ultime tre. La fiducia però è un sentimento ritrovato da tutto l'ambiente, a cominciare dai tifosi che a maggior ragione ora credono fermamente nella salvezza. C'è chi punterebbe addirittura qualcosa in più e a calendario alla mano una salvezza diretta non sarebbe impossibile, utopistica certo ma non irraggiungibile. Il dodicesimo posto della Folgore Caratese dista sei punti e domenica prossima i brianzoli degli ex bianco-rossi Borghetti e Melosi saranno attesi proprio al Franco Ossola per un match da vincere a tutti i costi. Grazie. 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 Grazie.